video siamo arrivati alla cassa enorme dopo ci sarà la mega cassa quindi andiamo con la prima cassa enorme tre oggetti non troviamo niente potenziali per leon che andiamo a potenziare subito allora adesso andiamo con la cassa enorme il cammino dei trofei non credo che troveremo qualcosa allora i potenziamenti li do a tara eugenio forse devo più a eugenio tara tara allora adesso c'è il momento che io e tutti aspettavamo andrea sei skip sei poi cinque vabbè raga vabbè trovo tre cose però eh otto ticket minchia io continuo in sedici 16 ragazzi io la farò una bella premi per 15 ansiasi perfetto per due ticket non posso farmi guarda per 20 visto che facciamo questo video dura troppo poco ci spenderò 40 ticket per voi die twists 40 40 video accumulo allora mi tagliamo tara livello 2 o anche mi sono messo anessi poi c'è una partita tipo dopo quando finisce vedi se parte calma non è mai visto che su un pezzo grosso i mega brawler più stanno campionati più prendono danno sul serio tipo prendono danno ogni ogni volta che sono campionati a te ti piace fare il pezzo grosso è andrea boh così non ci stanno tutta volta ma a me non mi piace ragazzi ce la dobbiamo fare abbiamo speso troppi ticket ma tu sei capitato a pezzo grosso no se ricapitato a pezzo grosso la più difficile 1 e 18 allora mancano 20 secondi e mancano 20 secondi per cosa per la fine per perdere no non ce la facciamo e va bene a quanto devi essere per vincere due minuti no forse nemmeno lui ce la facciamo senza problemi non riesco a vedere nemmeno quanto è il bro i minuti sono scaduti dai non sei morto dai 12.000 di vita vabbè non importa è andato bene quanto ti ha dato 360 noi abbiamo vinto a due 12 vabbè raga quattro casse apri quattro casse io me le aprirei un leggendario oddio 480 g andrea 480 g 5 casse io lo sai che vi dico premi per tre e ce la prima tutta dopo rassegnati col naso non trovi niente non trovi il leone ragazzi mi spiego tutti tutti finchè non trovi un bro che ti manca tre leggendario dai secondo me io me li spiego tutti allora per voi anche per voi ma per voi no 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 ho un pezzo grosso secondo me trovi il corvo del leggendario corvo o leone se trovi a spike io ti uccido se trovi spike possiamo fare il cambio ok io tiro il leone e tu metti a spike perché perché ti ricordo scegli qualche grado e ci vuoi 20 io sto cambiato qua perdi vita e allora e allora un minuto e c'è mica ti uccido guadagno vita allora però ok ok ma no non lo stanno scasciando questo qua ora in fiamma non perderò andro dai ma quanti già io me lo vado dai l'avete distrutto raga è morto il mega brawler mi dispu è morto in un minuto e 37 con 38 c'è pieno da doppio gettoni è difficilissimo dai no allora ragazzi perché quando voglio essere il coso non lo sono mai altre sei casse vabbè io ce ne va a mettere il nuovo arrivato boom 3 e 20 un altro evento un altro biglietto evento beh non lo posso essere di nuovo mettete jesse 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 è buonissima allora ragazzi io vi faccio una partita in singolo intanto mandiamo lo screen a dei miei amici questo e poi di tara dopo glielo manderò jesse è fortissima cosa jesse è forte dove non posso di nuovo perdere il mega brawler jesse è una bestia fa un devasto raga due brawler non sono proprio scontento con la volta delle 40 casse ci sta eh vabbè la volta delle 40 casse non ho trovato un gnocchio però subito dopo ho trovato il leone eh quindi non è stato un completo fallimento eh però era più bello se la trovavamo prima che dopo e io perdo no aspetta forse no dai manco un minuto c'è il 60% che in vabbè è durare battere jesse s hey è ridorial il second per cento ok no dai mi ha messo la torretta del 45% Ciò posso fare? What the fuck? Oddio! T'ho fatto un devasto! Eh vabbè Andrà? Dai ma sta torretta T'ha fastidio quando usci l'automira Perdi Perdi Ciao a tutti ragazzi Questa spaccatamente è andata bene Non ci speravo di trovare due leggendari Leggendari Sì sono leggendari quelli Di trovare lì un spike Spike e corno Direi che per oggi è tutto Ma che cacchio te l'ha trovati? No Per oggi è tutto